ciao a tutti e bentornati sul canale oggi vi faccio un video recensione brevissimo voglio parlarvi di questo prodotto che è il crisco il crisco non è altro che una margarina vegetale alla fine è uno strutto vegetale così viene definito l'ho usato per provare e devo dire che mi sono trovata molto bene questo grasso vegetale ve lo apro e ve lo faccio vedere è completamente bianco perché appunto privo di derivati animali è un prodotto americano e viene utilizzato soprattutto nella pasticceria americana la confezione contiene 450 grammi di prodotto io ho acquistato la confezione più piccola e l'ho pagato circa 8 euro 7 euro e 90 o 7 euro e 50 ora non ricordo io l'ho acquistato il crisco in un negozio specifico per cake design perché il crisco viene utilizzato come olio diciamo come base oleosa per non far attaccare la pasta di zucchero alle nostre mani e al tappetino di silicone sul quale si lavora questo tipo di prodotto può essere utilizzato per qualsiasi impasto dolce in america è molto utilizzato per i dolci per le torte io mi sono trovata bene facendo i cupcake ho fatto dei muffin che sono stati sofficissimi e vi lascio la ricetta in basso nell'info box o su tra le schede e sono venuti morbidi e erano delle nuvole e sono e ho notato anche che il prodotto finito quindi il muffin finito l'ho potuto conservare per un periodo più lungo di solito i muffin secondo terzo giorno già se arrivano insomma se riusciamo a mantenerli fino a due tre giorni quando è capitato di solito diventano più duri e granulosi ecco e quindi sono buoni soltanto da mettere nel latte per farci colazione mentre quando ho usato il crisco ho potuto notare che il muffin si è conservato per cinque giorni ho fatto una prova specifica nel senso che ho preso un muffin e l'ho lasciato nel contenitore per cinque giorni volevo vedere che cosa succedeva ogni giorno andavo lì a tastarlo e a controllarlo il muffin è sempre stato della stessa consistenza così come appena sfornato io con questo prodotto mi trovo molto bene lo consigliare e anche se reperirlo non è molto semplice come dicevo l'ho acquistato in un negozio per specifico per prodotti di cake design e però ho visto che si può acquistare anche online sul sito americano di cui vi lascio il link qui sotto non è una sponsorizzazione né al crisco né al negozio online però mi sento di consigliarlo perché essendo un prodotto vegetale ho potuto constatare che anche io che sono intollerante lattosio posso utilizzarlo senza avere nessun tipo di problema la mia recensione quindi è più che positiva sono molto soddisfatta e il video termina qui mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video vi lascio all'interno dell'infobox tutti i link ai miei canali social e il video che vi metto qui accanto è il video precedente mi raccomando iscrivetevi ciao alla prossima